Ciao a tutti ragazzi, io sono Gabri Costa, statemi bene a sentire. In questo videogioco Injustice Gods Among Us, noi abbiamo una missione Star Labs aggiuntiva di L.C. che noi bisogna usare Scorpion di Mortal Kombat. Ascoltatemi, i regni si stanno fondendo, Scorpion deve raggiungere il portale di Quan Chi sull'altro lato dell'arena evitando le trappole dell'Ether Realm. Avete visto la città è tutta piena di lava? Vi faccio ricordare che Scorpion c'era dal primo Mortal Kombat nel 1992. Cerchiamo di non sprecare le occasioni. Avete visto ragazzi? Stiamo per fare, stiamo per raggiungere il portale di Quan Chi. E il nostro Scorpion ce l'ha fatta. Ora mettete un mi piace, iscrivetevi al canale. Se il video vi è piaciuto, condividetelo e iscrivetevi. E ricordatevi di andare sul canale di mio fratello Alex Costa che si chiama Costanza Fims. Vi consiglio di andarci così potete guardare i cortometraggi. Ricordatevi che Scorpion di Mortal Kombat lo conosciamo tutti, ma non riesco a capire perché è un personaggio guest in questo Injustice God's Among Us.